Avvisi di pagamento ASL-Biella, aggiornamento sull'attività in corso. Alvia dalla prossima settimana la spedizione dei primi riscontri tramite e-mail agli utenti per i quali è già stato accertato il pagamento. L'attività di verifica impegnerà ancora il gruppo di lavoro fino all'esaurimento di tutte le richieste. Chi non avesse ancora fatto pervenire la propria pratica potrà farlo nelle prossime settimane. Dopo il primo intervento urgente in cui l'ASL-Biella aveva attivato sportelli dedicati alla gestione dei ticket e sospeso formalmente la procedura di riscossione, arrivano ora i primi riscontri dell'attività svolta dal gruppo di lavoro dedicato. Nei giorni scorsi è stata completata una prima parte delle verifiche, che rappresenta circa un terzo del lavoro di controllo sui pagamenti relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 attraverso analisi approfondite dei flussi informativi. Dalla prossima settimana sarà avviata la spedizione della comunicazione formale da parte dell'ASL agli utenti che avevano ricevuto l'avviso dall'Agenzia delle Entrate e per i quali è stato accertato l'avvenuto pagamento su tutte le prestazioni oggetto del sollecito. La comunicazione cittadina avverrà principalmente via mail e solo nei limitati casi in cui non fosse possibile tramite posta. Nel frattempo il gruppo di lavoro sta proseguendo con la seconda parte delle verifiche, che consiste nell'esame di ciascuna pratica ricevuta da parte dell'utenza per verificare l'avvenuto pagamento o l'esenzione rispetto alla specifica prestazione.